Indignazione ed amarezza, queste le parole che hanno animato gli interventi nel Consiglio Comunale di Siderno, convocato in sessione straordinaria ed urgente per condannare il grave atto intimidatorio perpetrato dai gnoti ai danni del consigliere comunale del Partito Democratico Giorgio Ruso, al quale è stata incendiata l'auto parcheggiata all'interno della sua abitazione. Tutti i partecipanti hanno invitato Giorgio Ruso a continuare a svolgere la propria missione di consigliere comunale senza farsi intimorire da azioni indegne ed esacrabili. Ad aprire la seduta il presidente del Consiglio Paolo Fragomeni, il quale ha dichiarato ci possiamo dividere su molte cose ma su una cosa non possiamo permetterci il lusso di dividerci il rispetto dei principi fondamentali del vivere civile. Paolo Fragomeni ha fatto poi subito la proposta di aprire gli interventi anche al pubblico, proposta avallata immediatamente al consigliere Vincenzo De Leo e poi approvata all'unanimità, anche se nessuno dei cittadini presenti ha voluto prendere la parola. Carlo Fuda nel suo intervento ha chiesto nuovamente l'azzeramento delle giunta e l'avvio di una nuova fase per la politica cittadina, ripercorrendo le varie vicende che hanno caratterizzato la fase della campagna elettorale. Nel suo intervento Maria Teresa Fragomeni, segretaria e capogruppo del Partito Democratico, ha ribadito che dietro tutti gli atti intimidatori ci sia una strategia destabilizzante per la città. Ha chiuso la seduta proprio il consigliere Giorgio Ruso che ha voluto ringraziare tutti coloro i quali, anche da fuori regione, in queste ore gli hanno manifestato solidarietà. Voglio ringraziare veramente tutta la comunità che di fronte a queste situazioni si stringe intorno e dimostra che è una comunità viva, una comunità coesa, dove veramente di fronte a certi atti così vili c'è una unità di intenti.